Quest'anno dove andrai in vacanza? A Modena. Con la tua famiglia o con gli amichetti? Con la mia famiglia. Dove passerà il suo feragosto? Lo ha già deciso? A casa. Sono qui a Pesaro e mia sua cia ciava una casa qui a Pesaro. Quindi si rimane qua in città. Prossimamente andrai in vacanza o quest'anno si rinuncia? Sì, arrivo più avanti. È già stata in vacanza quest'anno? La prenotata? Sono in vacanza. Da dove viene? Brescia. E rimarrà fino? A fine di agosto. Dove è stata qua a Fano? Ha partecipato a degli eventi? È andata a visitare i monumenti? Ancora non ha avuto tempo? Bene, buone vacanze. Grazie, grazie. Per agosto il tempo non sarà bello, quindi penso a casa o al mare se il tempo lo permetterà. Niente di particolare. Sua figlia lei? Sì. Tu dove andrai? Con gli amici o rimarrai con la famiglia? Con la famiglia, anche tu. Sì, sì. Invece le amiche, anche loro, tutte a casa con mamma e papà? Sì. Io rimango a Fano. Dove andrà? Rimarrà a casa? Andrà a fare una passeggiata al mare? Non lo so. Ancora deve decidere tutto. Sabato festeggerete anche voi il ferragosto o sarete qui presenti e quindi ci sarà il mercato? Saremo qui a lavorare. Sperando che c'è gente e che verranno, soprattutto che verranno prima al mercato e poi al mare a fare il bagno, a fare qualsiasi cosa, a divertirsi. Buongiorno, posso chiedervi dove trascorrerete il ferragosto quest'anno? Eh, a casa io. Quindi con i parenti? Al mare. Ce l'ha già di fronte? Sì, sì. E voi invece andrete via da qua? Al mare. No, no, già le ferie le abbiamo fatte al mare. Rimarrà qua a Fano? Andrà a fare il bagno al mare quindi? Sì, sì. Adesso ci va, vero? Ci fai per andare. E poi che cosa fai in spiaggia? Fai anche le formine, i castelli? Sì. Sanno che il ferragosto si andrà in vacanza? No. Guardate. Niente. Non c'è più una lira. Quindi neanche voi? No. No, no, no. Andrete al mare oppure una passeggiata nell'entroterra? Una scappatina al mare ci starà, tante qui. Ma ancora non lo sappiamo, penso a casa. Non andremo da nessuna parte. Rimarrete qua. E invece prossimamente avete pensato di andare in vacanza o comunque con i figli piccoli? È sempre difficile muoversi? No, in un futuro prossimo sì, quando cresceranno, saranno più grandi e ricominceremo a viaggiare perché ci piace molto. E passeremo il ferragosto tra le Marche che è sempre una splendida terra da farsi ospitare. Dopodiché proseguiremo verso l'Emilia e torneremo verso casa, verso il nord e verso Torino. Una vacanza di quanti giorni quest'anno? Un rapido break. Il lavoro in questo momento impone altri ritmi, ma va bene così. Forse in campagna. Le vicinanze comunque? Sì, sì, abbastanza vicino. Prendo un po' di fresco, siamo di Fano, quindi il mare ormai l'abbiamo fatto tanto, quindi probabilmente in campagna. Tutti insieme? Non lo so, può darsi. Non lo so, non lo so. E invece dove andrà? Siamo insieme. Insieme. A Ferragosto avete già deciso dove andrà? Dopo il Ferragosto. Dopo, si partirà dove? A Sorrento. Però? Quanti giorni? Eh, tre, quattro. Il minimo indispensabile. Poi si torna a lavorare, ecco, per saccare un po'. Esatto. Bene. Sono appena arrivata in Italia, non ho la minima idea. Quindi, insomma, viene dall'estero, da dove? In Burgo. Quanto tempo rimarrà qua? Fino a settembre? Germania. Germania? Yes. Quindi, siete soli, solo voi tre, oppure c'è anche qualcun altro con voi? Con la mamma. Fino a quando rimarrete qua? Una settimana. Per la seconda volta siamo qui. Per la seconda volta? Sì, sì. Che cosa vi è piaciuto di Fano? Vi ha spinto a tornare qua? Tutto. Tutto, tutto. Tipo? Tipo il mare, tipo la città. L'accoglienza come l'avete trovata? Anche buona. Da quanto tempo venite qua a Fano? 12 anni. Però io vengo, sono venuto per il Carnevale, sono venuto per il Natale, mi mancava la Fano dei Cesi, mi manca il Carnevale. Però è stato bello il Carnevale che hanno fatto qua in piazza, tanto per ricordare i mille iscritti. Vedi che so tutto? Adesso voglio il premio.